è proprio bel giorno oggi e registriamo pure di domenica allora telecamera nuova si vede ragazzi perché è stupendo 720p potete metterlo ma va bene telecamera nuova si vede un po' meglio no veramente sto scherzando ho ripreso la editare ragazzi una nuova applicazione a editare con scusate sto guardando con power editor power director che me l'ha consigliata sono chi sono no è un signore vabbè la usa anche sono chi sono penso credo quindi adesso taglierò moltissimo perché nell'altra ragazza non vi dico il nome perché ragazzi sconsigliate l'hanno anche tolta allora per quello raga ne ho stellato un'altra l'hanno cancellata allora riprendo parlo piano perché ci sono ecco va bene bene guardate il mio vecchio telefono ragazzi è andato è morto è morto e vi dico che è morto prendiamo un attimo questa telecamera qua perfetto guardate raga questa telecamera qua stupendo allora stupendo eh c'è una cosa ragazzi perfetta allora mi sa che scarica eh io non posso fare le foto wow si vede bella raga no guardate ragazzi c'è anche la canzone sottofondo penso in questo video guardate se si vede in faccia ma non è troppo zoomata non è che si zoom ok metti a fuoco per favore metti a fuoco ok che se ne frega io registro voi faccio una foto ecco il flash ok bene ah dove cazzo però nuova applicazione ragazzi dove nuova delle camere vi ho già detto tutto siamo a 2 minuti e 35 ragazzi allora voglio dirvi un paio di cose allora arriveranno molti vlog molte challenge adesso specialmente molte molti vlog più che challenge challenge arriveranno quando arriveremo un tottile like che vi dirò che vi dirò io adesso si può zoomare non vuole toccare niente che se mi si chiude il video sono felice ragazzi perché ho preso di nuovo a editare con questa applicazione qua ragazzi pazzesca ve la consiglio anche voi power edi director molto bella stupenda allora visto che domenica sono lei non lo so nemmeno io ok questo vlog ho ripreso editare non mi ricordo il titolo nuovo editing a caso ci siamo raga quindi lasciate 20 like non sapevo cosa dire in questo video ragazzi era troppo strano quindi nel prossimo video vedrete di tutto faccio vedere una cosa allora il fidget spinner sarà già scusate sarà già arrivato forse al destinatario ragazzi lo saluto lo saluto tantissimo ciao e lui sa chi è ho deciso ragazzi lui perché secondo me non conoscono tanto è mio amico quindi cioè non è costratto per amicizia perché è stato il primo anche anche se sceglievo l'ultimo era uguale allora vi arriverà allora lo screenshot allora prima di tutto guardiamo se si può fare lo screenshot no aspettate proviamo dopo lo metterò come immagine forse speriamo bella raga quindi allora lasciate 20 like 10 like per questa nuova power editor direttore quindi nuova applicazione ragazzi per editare quindi lasciate 10 mi piace 10 like per questo video arriviamo ah comunque ragazzi occidentali scarame è arrivato a mille visualizzazioni è impossibile da credere mille visualizzazioni 13 non mi piace 12 mi piace mamma mia no tantissimo comunque mille ragazzi grazie mille a tutti no veramente ragazzi vi immaginate mille persone che guardano un mio video ma da tutta Italia secondo me quando aveva vinto Sanremo allora devo guardare spesso la camera qua devo guardarla quindi ragazzi ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi ciao 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 ciao